L'altro giorno ero sola e a pranzo mi sono fatta questo risotto con asparagi e tarassaco che era buonissimo. Ho lavato molto bene un mazzo di asparagi e il tarassaco che è un'erba confestibile che si trova in primavera. Un bello spicchio d'aglio, tanto ero da sola. Divido le cime dai gambi che ho già tagliato a pezzettini perché le cimette a me piacciono verdi e ancora un po' croccanti, quindi le aggiungo alla fine. Taglio il tarassaco a listarelle, insomma, sempre un po' arrafazzonato come lo faccio io, ma lo taglio a pezzetti un po' piccoli perché cuoccia meglio e si mescoli bene col risotto. In una pentola insieme all'aglio aggiungo anche, oltre al tarassaco, i gambi degli asparagi che ho tagliato, un pochettino di brodo vegetale granulare giusto per dare un po' quel sapore di risotto e un pizzico di sale perché tanto poi c'è sempre tempo di aggiungerlo dopo, quindi io non esagero, non lo metto subito. Poi un pochettino di olio di oliva perché così faccio soffriggere tutto bene. Quando le verdure si sono leggermente appassite aggiungo il risotto e io ho scelto del carnaroli integrale, così, giusto per dare un'idea di pranzo sano, ne ho messo una bella porzione, portato a tostare sul fuoco e poi una volta tostato un paio di minuti aggiungo acqua bollente mano a mano in modo da cuocerlo e alla fine, guarda che roba, è veramente buonissimo, aggiungi il sale solo alla fine e vedrai che ti piacerà.